Segreti di famiglia, anticipazioni di domenica 28 luglio dove vedremo un matrimonio inaspettato e la vendetta di Zafer contro Ginar. Ginar è stato finalmente rilasciato ma la famiglia di Jailin non prende per nulla bene la notizia. Zafer ne rimane sconvolto e dopo essere tornato a casa dà la notizia ad Aileen e Ghul. Sua moglie va su tutte le furie e gli rinfaccia di non essersi impegnato abbastanza per evitare la scarcerazione di Ginar. Zafer è troppo sconvolto anche per rispondere e Ghul lo minaccia. Se non si occuperà di Ginar lasciando l'assassino di Inji impunito, lei non lo accetterà mai più in casa né come padre né come marito. Pars, che sospetta ancora che Jailin abbia veramente rubato lo spazzolino da denti a casa di Ozan, è determinato a scoprire la verità e avvia un'indagine ufficiale su di lei, contando sul fatto che il gas testimonierà il vero. Pars è convinto che il gas, che crede fermamente nella giustizia e nella legge, non mentirà mai solo per coprire Jailin. Sua sorella Deva è decisamente contrariata dall'atteggiamento di suo fratello, che secondo lei si sta accanendo contro il gas senza motivo. Nurettin non è riuscito a trovare nessuna prova che possa andare a favore di Engin. Yekta però non demorde e anche se arrabbiatissimo con suo figlio decide di costruire un alibi di ferro a suo figlio e trovare al più presto qualcuno che possa essere incolpato dell'omicidio al posto suo. Mentre Zafer passa la notte insonne pensando a come ottenere giustizia per la morte della figlia, Metin si riavvicina moltissimo a Ginar. Il ragazzo è ormai a casa e suo padre si scusa con tutto il cuore per non avergli dato il supporto che avrebbe meritato. Ginar, ancora spaventato che il padre possa tornare a detestarlo e a non amarlo, dopo un primo attimo di indecisione si lascia andare e abbraccia il padre in lacrime. Dopo aver cenato insieme alla famiglia di Ilgaz, lui e Jaylin si mettono a discutere in giardino. Lui è convinto che Pars non si arrenderà fin quando non dimostrerà che Jaylin ha rubato lo spazzolino a casa di Ozan andando contro il corretto svolgimento delle indagini. Anche Jaylin ne è convinta ma in assenza di prove l'unico che potrebbe metterla nei guai sarebbe proprio Ilgaz. L'uomo, infatti, ligio al dovere, non ha alcuna intenzione di mentire ad un procuratore. Jaylin si arrabbia nonostante avesse già capito l'indole di Ilgaz. La discussione viene però interrotta dall'arrivo di Deva, arrivata proprio per confermare i loro sospetti. Pars ha dato inizio ad un'indagine contro Jaylin. Tradendo gli intenti del fratello, Deva spera di riavvicinarsi ad Ilgaz. Il giorno dopo, mentre Jaylin e Ilgaz si recano da Pars per affrontare il primo colloquio al quale sono stati convocati, Zafer libera finalmente il suo ostaggio. Yavuz, che scopriamo essere un poliziotto vicino a Metin. Dopo averlo fatto, Zafer torna a casa e senza dire una parola a nessuno prende dei gioielli in oro dalla sua camera e lascia il cellulare lì. Uscendo da casa, sua figlia Aylin lo segue per capire cosa stia succedendo. Zafer, con pochissime parole, le dice che andrà via in mare a pescare, ma questa volta per molto tempo. Aylin capisce subito che suo padre li sta abbandonando, lo prega di non farlo e lo biasima per aver preso tale decisione proprio in un momento così drammatico della loro vita. Zafer in realtà non sta solo scappando dalla sua famiglia, ma ha un piano. Si reca da un comprooro e vende gioielli. Con il ricavato della vendita paga un ricettatore per avere una macchina non rintracciabile e una pistola. Salito in macchina, è deciso a portare a termine il suo piano. Zafer non è il solo ad avere un piano. Yekta ha incaricato Nurettin di incastrare qualcun altro per l'omicidio di Inji. Nurettin, infatti, si trova in una casa dove sta sistemando le varie prove dell'omicidio di Inji, ovvero l'orecchino rimasto a casa di Yekta e il posacenere con cui Engin ha colpito in testa Inji. Yekta sembra tirare un sospiro di sollievo, anche se Engin sembra comunque essere molto preoccupato. Nel frattempo, Ginar fa colazione con il padre e la sorellina. Rimasto solo, riceve una telefonata da qualcuno con cui ce l'ha a morte, probabilmente Serdar. Ginar, arrabbiatissimo, gli dà appuntamento ad un parchetto e riesce ad uscire da casa da solo senza essere seguito dal padre. Chi lo segue, però, è proprio Zafer. Arrivato al parchetto, Ginar si ritrova da solo. Chi doveva presentarsi all'appuntamento, infatti, non l'ha fatto. È il momento per Zafer di agire. Si presenta proprio davanti a Ginar e gli punta la pistola addosso. Il Gaz e Jelin arrivano insieme da Pars. Il procuratore è convinto che il Gaz dirà la verità su Jelin così da poterla incriminare. Quando gli chiede quindi di confessare quanto fatto dalla ragazza, il Gaz dice che la legge prevede la non testimonianza contro i parenti. Pars non capisce in che modo il Gaz e Jelin sono parenti. Jelin tira fuori i documenti di un matrimonio, il suo e di il Gaz. I due, per evitare che il Gaz testimoniasse contro Jelin, si sono sposati. Il Gaz non ha tradito la legge, ma sicuramente ha fregato Pars, rimasto completamente senza parole. Nel frattempo, Zafer ha costretto Ginar a buttare il suo cellulare e a salire in macchina e guidare verso il cimitero sotto minaccia. Ginar è spaventatissimo e cerca di convincere l'uomo del fatto di essere totalmente innocente e di non aver fatto nulla a sua figlia Inji. Ma Zafer non vuole saperne e lo porta fin sulla tomba della figlia. Lo spinge per terra e gli urla di confessare ciò che ha fatto e di chiedere scusa all'anima di Inji. Ginar però non può farlo, sa che se facesse ciò che dice Zafer l'uomo lo ucciderebbe, convinto del fatto che sia lui il colpevole dell'omicidio di Inji. Ginar, inginocchiato sulla tomba di Inji, riesce a spingere Zafer e a tentare la fuga riuscendo a salire sul primo autobus che vede. Zafer però lo ha già raggiunto e si mette vicino a lui sull'autobus, continuando a minacciarlo con la pistola. Liberatisi di Pars, il Gaz e Jelin cercano un modo per indirizzare lo stesso Pars verso Ingin. Eren non ha ancora trovato l'auto che Ingin ha usato la notte dell'omicidio, ma per fortuna il Gaz ricorda di aver visto dei volantini all'ufficio di Jelin di una compagnia di noleggio auto. Pensa infatti che se Ingin abbia usato un'auto potrebbe averla noleggiata proprio da qualcuno di sua conoscenza. Jelin intanto ha fatto una lista di amici di famiglia da cui Inji sarebbe potuta andare la notte dell'omicidio. Tra gli amici ovviamente compare anche Ingin ma forse è troppo presto per dare la lista a Pars che è già risentito per il loro matrimonio e la mancata testimonianza di Il Gaz. Infatti Pars va in ufficio da Il Gaz dove ancora c'è Jelin e chiede loro come abbiano preso la decisione di sposarsi. Scopriamo attraverso i ricordi di Il Gaz e Jelin che i due hanno pianificato la sera prima di sposarsi. Dopo aver avuto la notizia da Deva dell'indagine di Pars, Il Gaz non era disposto a mentire per Jelin, ma vedendo l'affranta è proprio lui a trovare come unica soluzione quella del matrimonio. I coniugi per legge non possono testimoniare l'uno contro l'altra, così Il Gaz non tradirebbe il suo onore e Jelin sarebbe salva. Jelin accetta e i due passano la notte a casa di Il Gaz pensando alle conseguenze del matrimonio del giorno dopo. Non lo diranno subito a tutti per evitare di dover dare troppe spiegazioni e dopo un anno divorzieranno. I due sembrano molto concreti e pragmatici sulla questione, salvo poi durante la notte non riuscire a prendere sonno e cercarsi null'altra. C'è un evidente imbarazzo tra i due, ma che nessuno al momento ammette. È dunque così che hanno preso la decisione di sposarsi. Il vero e proprio matrimonio è stato poi celebrato quella stessa mattina, poco prima di andare da Pars con testimone e Ren. Ancora sull'autobus, Zafer decide di scendere con Ginar quando vede un vecchio magazzino abbandonato. Trascina fuori il ragazzo e lo porta al magazzino. Zafer è disperato e maledice Ginar per aver ucciso Inji, ma Ginar di nuovo riesce a sovrastarlo e tra i due comincia una lotta. Zafer tiene saldamente la pistola mentre Ginar cerca di disarmarlo. I due si ritrovano per terra, l'uno sopra l'altro e alla fine parte un colpo. Non si sa chi abbia colpito, ma entrambi si accasciano al suolo. Jailin trova finalmente un modo per consegnare a Pars quella lista di amici da cui Inji sarebbe potuta andare. Fa finta che sia di poca importanza e che abbia messo il nome di Engin proprio per scrupolo, visto che sono amici da una vita. Pars accetta la lista ed è determinato a fare tutti i controlli del caso. Anche se indaga su Jailin e anche lui conosce bene Jailin, è comunque un procuratore dedito al lavoro e alla legge, almeno quanto il gas. È proprio per questo motivo che non può credere che proprio il gas abbia deciso di sposarsi con Jailin per evitare di testimoniare, usando così la legge a suo favore. Nel frattempo, proprio Iekta sta istruendo Engin per creare l'alibi perfetto per la notte dell'omicidio. I due vanno in ospedale e cominciano a spiegare ciò che Engin dovrà dire se mai verrà interrogato. La notte dell'omicidio, Ingi si è presentata a casa sua con il naso sanguinante per chiedergli dei soldi. Era sconvolta per aver scoperto che suo cognato Osman aveva una relazione extra coniugale con Zimruth e voleva andare da suo cognato per risolvere la situazione. Engin però non è uscito e non l'ha accompagnata perché vittima di un'atroce micrania è stato costretto a prendere un taxi per andare in ospedale. Per questo si trovano in ospedale. Engin deve riconoscere un'infermiera, già pagata da Iekta, per mentire e studiare nei minimi dettagli la stanza in cui è stato assistito. Deve essere tutto perfetto e lui deve essere il più convincente possibile per fingere che quella notte lui veramente si trovasse in ospedale. Il suo alibi finisce intorno alle tre di notte quando, deciso a tornare a casa dall'ospedale, ha chiamato al noleggio auto non trovando un taxi disponibile. Ilgas trova il coraggio di andare da Deva e di dirle di essersi sposato con Gelin prima che la donna lo venga a sapere in maniera traumatica. Ilgas le dà la notizia e la lascia sola e lei crolla in un pianto disperato, arrivando anche a vomitare. Sembra proprio che l'uomo che avrebbe dovuto sposare non abbia intenzione di tornare con lei. Osman va nello studio di Iekta e impreda al panico. La sua amante Zimrut non ha confermato il suo alibi dicendo che la notte dell'omicidio di Ingi non erano insieme. Osman infatti è stato riconvocato da Pars. Iekta si propone di aiutarlo ma lo aiuterà davvero o sfrutterà la situazione per difendere suo figlio Engin? L'assistente di Pars, Ridvan, riesce a scoprire che il tassista che accompagnò Ingi è in fuga per l'estero ma è comunque venuto a testimoniare. Pars si domanda come abbia fatto Gelin a trovarlo e quindi comincia ad indagare. Riesce a contattare il tassista chiedendogli subito chi lo abbia contattato per andare a testimoniare. Il tassista confessa di essere stato contattato da un parente di Ilgas, Merkan, un uomo molto influente. Pars non ha idea di chi sia questo Merkan e si mette subito ad indagare anche su questo. Nel frattempo Ilgas e Gelin vanno nell'ufficio condiviso con Engin e ci trovano proprio il ragazzo. Gelin ha ancora grandi difficoltà a dissimulare l'odio che prova per l'assassino di sua sorella. Engin, però, è stato informato da Nurettin che i due si sono sposati e chiede subito alla sua amica se sia vero. Ilgas, intanto, ne approfitta per cercare informazioni sull'agenzia di noleggio auto che si ricordava di aver visto lì. Gelin ammette di essersi sposata quella mattina e appena Ilgas trova i documenti del noleggio dell'auto i due vanno via subito, lasciando Engin senza parole. Ilgas chiama subito Eren per fargli trovare al più presto la macchina noleggiata da Engin e delle riprese che in qualche modo provino la sua colpevolezza per l'omicidio di Ingi. Nel frattempo, Pars non è solo molto deluso da Ilgas per come abbia evitato di testimoniare, ma è anche preoccupato per le vane speranze che nutre sua sorella, convinta ancora di poter riconquistare Ilgas. Pars non sa cosa fare. Non crede che Ilgas sia una cattiva persona, anzi a modo suo lo stima, ma deve intervenire in qualche modo. Adesso ha anche scoperto che Ilgas ha chiesto l'aiuto di suo nonno, un pericoloso delinquente, solo per aiutare Gelin. Pars decide allora di chiedere consigli ai suoi mentori, il procuratore capo e i suoi vecchi insegnanti dell'università. Ilgas e Gelin arrivano all'agenzia di vendita e noleggio auto. Grazie ai documenti del noleggio trovati da Ilgas nell'ufficio di Gelin, i due riescono a chiedere informazioni riguardo proprio la macchina che ha affittata Engin. Purtroppo però la macchina è stata messa in vendita e Ilgas e Gelin non possono neanche vederla. Proprio mentre sono lì, arriva l'acquirente della macchina noleggiata da Engin. Gelin, vedendolo salire in macchina e andare via, non ci pensa due volte e trascina Ilgas in macchina per inseguire l'uomo. Gelin, agitatissima e determinata ad incastrare Engin, si mette all'inseguimento dell'uomo arrivando anche a tamponarlo. Dopo il tamponamento, ovviamente, l'uomo esce dalla macchina per constatare i danni e lo raggiunge Ilgas che prontamente chiama la polizia visto l'incidente. L'uomo cerca di convincerlo a non chiamare la polizia ma Ilgas non lo ascolta e la chiama lo stesso. Arrivata la polizia, Ilgas convince gli agenti a trattenere sia l'uomo che la macchina. Ha il sospetto che l'uomo nasconda qualcosa e analizzare approfonditamente la vettura potrebbe aiutarle a scoprire qualche illecito. In realtà, Ilgas vuole solo trovare delle prove che colleghino l'omicidio di Inji ad Engin. Terminano così queste anticipazioni. Abbiamo visto un matrimonio decisamente inaspettato, ma restiamo con il fiato sospeso anche per scoprire cosa è successo davvero tra Zafer e Ginar. Io sono Stefania, come sempre vi racconto le anticipazioni e le puntate di Segreti di Famiglia, questa splendida serie tv turca. Vi aspetto nei commenti per parlare di tutto quello che è successo. Un abbraccio e a presto!